Per la giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre, siete su Notizino Click e qui con me è Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Sanità Mattarella, pilastro essenziale, Jazz Me, a tutto swing con Elena Andreoli. Padova Jazz, il festival, la 26esima edizione Gianmarco Ferring Tour, presente al disco Un Descené. A tre musicale in omaggio a Schoenberg, Trump, Putin, si sono parlati sette volte. Banca Italia stima al ribasso la crescita del PIL del 2024, non andrà oltre allo 0,8%. Banche centrali, summit fra Seiko e Holzmann Albania e Austria, partner decisivi. Nel 9 ottobre del 1967 moriva Ernesto Che Guevara e il 9 ottobre del 1940 nasceva il cantante e musicista inglese John Lennon. Facciamo tantissimi auguri all'attrice italiana Ottavia Piccolo, nata nel 1949. E chiudiamo con una frase di Oscar Wilde, il grande vantaggio del giocatore con il fuoco è che non ci si scotta mai, sono solo coloro che non sanno giocarci, che si bruciano del tutto. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna Loretana.